Buonasera mister Simone Zaccagni di Infopress, da Umbro le chiedo la prova di Spinazzola, visto che era tanto tempo che non rientrava, ha fatto il suo sordio con la Juventus? Ha fatto una buona partita per essere la prima, è un giocatore importante per noi, quindi al momento rimane la Juventus, anche perché abbiamo con l'infortunio di quadrato, dobbiamo avere quattro terzini, con la Tasha abbiamo parlato, e al momento abbiamo valutato che la soluzione migliore è che rimanga con noi, poi se troveremo un sostituto è normale che lui avrebbe bisogno di giocare con un pochino più di continuità, però questo al momento non può succedere.